Torniamo al Mobile World Congress e presentiamo la grande novità in casa Nokia, il portale OVI, che in finlandese significa porta. OVI è la porta d'accesso ai servizi internet di Nokia, che include il Nokia Music Store, Nokia Maps e i giochi sulla piattaforma Engage. Per i cellulari vi presentiamo l'N78, un dispositivo mobile multimediale dotato di un proprio video center. Guardiamo un po'. Siamo qui a Barcellona per presentare le ultime novità del mondo Nokia. La cosa più importante di cui siamo orgogliosi è il servizio Share Onovi. Share è il primo servizio brandizzato del mondo OVI, che è un pochettino la porta d'accesso al mondo internet di Nokia. Share è uno spazio virtuale dove gli utenti possono scaricare, condividere, gestire una serie di prodotti che vanno dalle fotografie ai video alla musica. È una sorta di spazio virtuale dove l'utente accede attraverso canali che possono essere pubblici o privati. Privati chiaramente decide di condividere con chi vuole le fotografie, le esperienze pubblici, può decidere di mettere in rete nel mondo internet quello che vuole. Questo è il primo servizio brandizzato, nel corso del 2008 ce ne saranno altri. Un altro servizio importante che abbiamo lanciato qui a Barcellona è Maps 2.0. Maps è l'evoluzione del nostro servizio Nokia Maps e in particolare le caratteristiche principali di questa evoluzione sono che è ottimizzata per la navigazione, sia in auto ma anche la navigazione, diciamo, pedesti. La cosa importante di questo servizio sono le immagini satellitari, le informazioni relativi al traffico, le guide multimediali dei posti dove andiamo a visitare. Altri servizi che lancieremo nel corso del 2008 sono dedicati al mondo della musica e al mondo dei giochi. È nel 1996 il primo prodotto dedicato interamente al video. Ha una serie di caratteristiche tecniche che vanno dalla fotocamera 5 megapixel, il display 2,8, ottiche Zeiss, ma soprattutto ha l'applicativo video center che permette di fare, diciamo, lo streaming di alcuni contenuti multimediali che possono essere legati al mondo YouTube, Reuters. In Italia abbiamo contenuti mediali specifici forniti da Rai. Per quanto riguarda invece l'applicativo, diciamo, del DVBH, in futuro quando sarà disponibile la tecnologia DVBH in Italia sarà possibile anche utilizzare questo prodotto per fare la mobile TV. Il 6210 Navigator è un prodotto interamente dedicato, nasce dedicato per la navigazione, c'è un tasto dedicato che permette sul display, diciamo, sotto il display che permette di accedere alla navigazione, ma soprattutto ci sono le mappe precaricate, la navigazione, insomma, è un prodotto ottimizzato per questo tipo di esperienza. Il filo conduttore, comunque, di tutte queste novità, di tutti questi annunci è sempre la convergenza multimediale. Nokia decide di entrare nel mondo della convergenza multimediale attraverso dei prodotti, quindi telefoni cellulari, ma soprattutto attraverso i servizi. Per noi è molto importante rendere, diciamo, il mondo Internet accessibile nel migliore dei modi in mobilità. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS